Buonasera a tutti, oggi parliamo di cultura, ne parliamo con un esponente importante dell'amministrazione comunale che è il presidente della Commissione Cultura, Francesco Bertolini, che io cerco sempre di far venire in trasmissione, è sempre impegnato, lui dice che non è così e quando lo chiamo viene sempre, però stavolta sono fortunato. Assieme a lui Andrea Parlato, che è un medico ma ha la passione per l'arte, sono i casi della vita, certo è contento di fare un medico, forse preferirebbe di più fare un solo architetto, però nella vita sono casi inspiegabili. Lui gestisce assieme al fratello l'antica ditta di tessuti del padre, appunto Parnato, e ora ha deciso di aprire al pubblico il Palazzo Campofranco, dove sono varie iniziative di carattere culturale, nonché sia sempre in evidenza l'aspetto artigianale che ha consentito alla famiglia Parlato in tanti anni di essere molto rappresentiva in questo campo a Palermo. Francesco, i problemi, i temi da trattare sono tanti, Manifesta, Palazzo Butella, Palermo, capitale della cultura, che cosa possiamo dire? Che cosa ti senti di dire? Vogliamo parlare di Manifesta? È stata inaugurata, si vede poco per adesso Manifesta, per quale motivo? Ancora i palermitani non hanno preso veramente coscienza del fatto che c'è questa grossa manifestazione a Palermo. Sabato c'è stata l'inaugurazione, quindi l'inizio ufficiale di questo cartello di iniziative, che appunto partendo da sabato si concluderà il 4 novembre. Come è strutturata Manifesta? Il quartiere generale è il Teatro Garibaldi alla Piazza della Calza, dove è possibile appunto prendere tutte le informazioni, acquisire diciamo l'abbonamento, che tra l'altro approfitto anche non tanto per una promozione, ma anche per divulgare informazioni. Attraverso l'abbonamento che la Fondazione Manifesta ha immaginato per i palermitani di una cifra simbolica di 10 euro è possibile abbonarsi per tutto il periodo, quindi da adesso fino al 4 novembre, avendo la possibilità di accedere a tutte le installazioni che in questo periodo verranno realizzate, a tutte le mostre sotto il cartello di Manifesta. Cosa succede? Succede che sostanzialmente in una zona della città ben precisa viene concentrato il grosso delle iniziative, stiamo parlando del quartiere della Calza, dal centro storico e in più ci sono anche dei progetti che invece puntano con delle mission e delle visioni strategiche anche fuori da questa zona, anche abbastanza lontano, per esempio quanto sta succedendo nel laboratorio del giardino condiviso allo Zen. Quindi sostanzialmente acquisendo questo ticket, questo abbonamento, è possibile conoscere, vedere installazioni, vedere mostre, ma soprattutto conoscere meglio la nostra città. Il Comune di Palermo come è intervenuto nell'organizzazione, insomma, di tutta la manifestazione. Intanto ha contribuito con una cifra notevole, perché c'è un milione e mezzo. Devo dire tra virgolette indolore, spiego cosa è successo. Manifesta è una biennale di arte contemporanea itinerante, cioè a differenza di Venezia che si fa ogni due anni sempre nello stesso luogo, Manifesta è una fondazione olandese che sceglie di volta in volta una città che ospita l'iniziativa. Possiamo dire dei geniacci che si sono inventati questa iniziativa. Ovviamente ogni città offre un progetto e una visione e ha un obiettivo ben preciso. È stata Manifesta a cercare Palermo o Palermo che ha cercato Manifesta? Palermo si è candidata, erano tante le città che concorrevano per ospitare quest'anno Manifesta. Palermo ha convinto la fondazione olandese rispetto a questo percorso di riqualificazione del centro storico, del percorso UNESCO, poi è arrivata anche la vittoria di Palermo a capitale e si intreccia perfettamente sul tema dell'altro, dell'integrazione. Basti pensare che proprio il simbolo dell'iniziativa di Manifesta è questo straordinario quadro di Roiacono dell'Ottocento che è una veduta di Palermo da Vergine Maria con Monte Pellegrino sullo sfondo e questo straordinario giardino, questa straordinaria natura dove vengono identificate le tante specie di alberi presenti provenienti da tutti i luoghi. Tu hai parlato di partire della calza, insomma si è voluto riprendere insomma in sostanza calzarte volendo. Si è presa quella quell'aria che è molto significativa di memoria, di storia per la nostra città e che è certamente il cuore del centro storico ma vi permetto di dire che è anche una periferia di questa città. Palazzo Campofranco ricade in questa zona. Palazzo Campofranco ricade in questa area e penso che Palazzo Campofranco, sono molto contento della presenza di Andrea Parlato oggi, rappresenti perfettamente come si possa coinvolgere la città a pieno e si possa far conoscere la città ai palernitani stessi. Non facciamo dire a lui direttamente, ripeto, che lui c'è un appassionato d'arte però mi pare che in questo caso oltre ad essere un appassionato d'arte è un amante della città di Palermo. Un amante rappresenta un perfetto connubio di come il privato debba collaborare con il pubblico e diciamo se non ci fosse stata la disponibilità della famiglia parlato Palazzo Campofranco sarebbe rimasto chiuso. Cerchiamo di collocare Palazzo Campofranco, in quale zona si trova precisamente così, cerchiamo di convogliare anche altri visitatori. Si trova in una zona, direi strategica, ma anche come ha detto l'amico Francesco, periferica di Palermo, perché appunto insiste nel quartiere Calza, appunto a pochi passi dal Teatro Garibaldi che è il quartiere generale di Manifesta, ma che comunque non è così a tutti noto in città. Dunque è sempre stato anche… Capisco, vicino alla Galleria d'Arte Moderna, a Piazza Sant'Anna. È proprio di fronte a Galleria d'Arte Moderna Sant'Anna e di fronte a Palazzo Gangi che molti sanno che è stata sede delle riprese del film Il Gatto Pardo nell'anno 1962, quindi non proprio pochi giorni fa. Però ecco, nella mia famiglia, quindi nelle mie memorie sin da bambino è stato sempre chiaro l'importanza culturale, storica che questa casa avesse avuto nel passato più lontano e probabilmente anche più recente della città. Il problema è che negli ultimi anni la zona è stata abbastanza dimenticata, soprattutto dai cittadini, quindi per me l'arrivo prima di un'iniziativa come le vie dei tesori e poi di manifesto è stata sicuramente uno sprono a poter pensare di dare qualcosa di più, per fare in modo che il quartiere potesse culturalmente rinascere e riappropriarsi alla sua storia con orgoglio, ma capendosi dall'inizio sarebbe stato un grosso sforzo, un grosso sacrificio. Ecco, voi cosa avete fatto in particolare per rendere, diciamo, fruibile il palazzo? Innanzitutto, grazie... Avete uniti appunto delle installazioni artistiche con la vecchia, diciamo, attività artigianale. Esattamente. Quindi chi arriva nel vostro palazzo ha la possibilità di assistere, vedere due realtà, la realtà artistica e quella artigianale. Esattamente, esattamente. Diciamo che è la forza del luogo, io ritengo che sia il perfetto connubio tra l'attività che ancora mio fratello svolge con grande sacrificio e passione e ereditandola chiaramente anche da mio padre che l'ha retta per circa 60 anni e che chiaramente è ancora lì ed racconta già da sé tanto tempo perché si parla di più di cent'anni di storia. Ma che cos'è che unisce le due attività? È il palazzo oppure voi vi siete inventati qualcos'altro e quindi avete pensato a installazioni precise di un certo tipo? Allora, il palazzo è un contenitore ma anche un luogo di ricerca e di sperimentazione perché intanto abbiamo dato ad alcune stanze la struttura e quindi l'assetto di ricezione di mostre temporanee. è stato il progetto di Virgilio Sieni che è durato due anni e che ha installato e ha fatto delle performance nei nostri locali e poi è stato il progetto adesso di Manifesta che ha installato una mostra da parte di una galleria di Amsterdam che Manifesta ha selezionato e che ha installato nei nostri locali la sua mostra permanente durante il periodo di Manifesta e poi è stata anche l'occasione di iniziare una collaborazione con gli artisti sia durante il periodo di Tesori che oggi con Manifesta perché appunto si è data la possibilità agli artisti di fare dei lavori in dialogo con la nostra attività storica e potendo profittare di pratiche artigianali come la stampa serigrafica sui tessuti che possiamo praticare e che chiaramente dà luogo a collaborazioni e alla nascita di opere d'arte. Poi parleremo se c'è la possibilità di lavoro per i giovani, se può essere inquadrato anche da questo punto di vista. Rispettamente a questo. L'amministrazione comunale cosa fa per incentivare questo tipo di attività? Noi abbiamo con esempio preciso della collaborazione, dell'attività di un privato cittadino e che poi viene resa aperta al pubblico, cosa fa l'amministrazione per incentivare questo tipo di iniziative? Mi riallaccio anche a una parte della domanda che mi avevi fatto prima e non avevo risposto rispetto a quanto era costato all'amministrazione e quindi cosa fa l'amministrazione mi riallaccio a questa. La fondazione olandese chiede, una volta vinta la candidatura e quindi deciso di poter ospitare in una città l'iniziativa, di poter creare una fondazione ad hoc collegata con quella olandese a tempo, quindi il tempo necessario per l'anno propedeutico, l'anno in cui si svolge la manifestazione e le conclusioni dei lavori, chiedendo anche un budget che non è da poco conto, cioè il Comune di Palermo ha versato circa 3 milioni e mezzo, l'intera iniziativa costa più del doppio. Questi 3 milioni e mezzo perché ho fatto la battuta che sono stati indolori per la cittadinanza? Perché contestualmente la precedente amministrazione ha introdotto una tassa di soggiorno che Palermo prima non aveva e che invece si era divulgata in tutte le città turistiche italiane. in considerazione che questo turismo fortunatamente ha dei picchi positivi in aumento, abbiamo introdotto la tassa di soggiorno e quindi di fatto sin dal primo anno, non l'avendola mai avuta e quindi non avendo mai deciso come spenderla, queste somme assolutamente nuove per i primi 3 anni sono stati destinati a manifesta e questi soldi sono stati bastevoli per i 3 milioni e mezzo perché dato straordinario e assolutamente positivo è che il primo anno abbiamo raccolto 800 mila euro, il secondo anno più di un milione e mezzo e questo è il trend, queste somme avendo ormai concluso interamente il pagamento dei 3 milioni e mezzo adesso torneranno a pieno nelle casse del comune e si deciderà come utilizzarlo ovviamente il tema, sono vincolati alla riqualificazione, tutto sproiettato verso l'incremento del turismo. Cosa fa l'amministrazione? Per noi questo è stato un investimento che ha portato e porterà, ci auguriamo, molto di più di quanto investito. Faccio due esempi, il primo che è quello dei progetti collaterali, cioè manifesta oltre a finanziare gli artisti che seleziona e che decide con la propria direzione artistica, con la propria fondazione, ha dato la possibilità di arricchire il calendario con degli eventi definiti collaterali, cioè che la fondazione non contribuiva da un punto di vista economico ma era disponibile a inserire nel calendario per la divulgazione e che fanno parte appieno del calendario di manifesta 12 Palermo. A questi proponenti veniva chiesto di autofinanziarsi, quindi di fatto sono arrivate centinaia di progetti di cui poi ne sono stati selezionati una sessantina dove c'è un budget di spesa che rappresenta quanto il proponente si impegna a spendere l'investimento e stiamo parlando di centinaia e centinaia di migliaia di euro di costi per questi collaterali. Tutto questo rivendichiamo il fatto che sono dei soldi che a caduta arriveranno nel tessuto cittadino perché chi organizza un collaterale avrà bisogno di uno spazio e quindi pagherà un affitto, avrà bisogno di un artigiano e quindi pagherà l'artigiano, avrà bisogno di materiale che verrà utilizzato, tutto questo viene speso a Palermo e questo è già un primo dato tangibile che già è avvenuto di come queste somme siano state rinvestite nel tessuto cittadino. Non hai l'impressione che questa manifestazione manifesta appunto sia conosciuta da pochi, non c'è ancora una presa di coscienza da parte? Assolutamente sì, l'obiettivo diciamo dell'amministrazione è quello di divulgare qual è la difficoltà a poco. Qual è la difficoltà principale? Stiamo contribuendo in minima parte a diffondere, infatti non ho voluto crearti un contraddittorio proprio per questo perché il mio è stato un'iniziativa in positivo, cioè l'intento di far conoscere... Siamo fuori dalle campagne elettorali ed è importante anche aprire delle finestre informative, non credo che io voglia... probabilmente a superare questo problema. Attenzione però a non confondere... No, 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 perché parliamo di un'iniziativa importante, però allo stesso tempo dobbiamo fare i conti con... Col quotidiano. Col quotidiano che è veramente disastroso. Con le mille criticità della città. Quindi invece si dovrebbe dire abbiamo pensato questa grossa iniziativa, ecco possiamo offrire tutta una serie di iniziative sia per i turisti che palermitani, nello stesso tempo dovremmo anche evidenziare una città pulita, bella, splendente, non lo possiamo fare, quindi tutto questo sforzo che è stato fatto finisce per essere in parte, insomma, rovinato tra virgolette da altri fattori che è inutile qua ripetere, riconosciamo tutti, però dico, si è impegnati a superarli indubbiamente. Assolutamente, soprattutto... Come Palazzo Campofranco ce ne sono tante altre iniziative del genere, dico, però il ragionamento era, forse tu mi hai risposto indirettamente, queste iniziative, c'era la via dei tesori, però io ho contestato la via dei tesori non come iniziativa, ma ho contestato il fatto che la via dei tesori non può essere un mese soltanto, secondo me dovrebbe essere sempre, ecco l'amministrazione cosa può fare per rendere, per far sì che una manifestazione come la via dei tesori oppure come Palermo apre le porte, durano tutto l'anno perché non ha senso, diciamo, relegarla ad un determinato periodo dell'anno, i tesori a Palermo ci sono sempre e debbano essere sempre fruibili e godibili. Da un lato condivido e ti manifesto anche la mia sorpresa nel constatare come nel periodo delle vie delle tesori si formano code chilometriche per visitare Palazzo delle Aquile a pagamento quando giornalmente si può visitare gratuitamente. Si vede che al Palermitano scatta un meccanismo di riscoperta in cui si dedica un periodo dell'anno alla riscoperta e anche un modo per socializzare, per stare insieme, si incontrano tante persone in questi monumenti, io non lo condannerei, mi sembra un momento bello di conoscenza, è un invito a conoscere meglio la città e gli esterni è il più possibile. Ma rispetto a questo io capisco le tantissime difficoltà che nel quotidiano viviamo, non è che siccome rappresento la maggioranza abbia il prosciutto agli occhi, non mi renda conto delle tante difficoltà di città, della sporcizia delle strade, dei marciapiedi di velti, delle strade che hanno bisogno di maggiore manutenzione o meglio di manutenzione, però attenzione, è anche vero che rispetto a cinque anni fa sul tema della cultura, del patrimonio artistico, della riqualificazione, tantissimo è stato fatto, sembra quasi che una città dimentichi da dove si proviene, io voglio ricordare non il dopoguerra, voglio ricordare che fino a tre anni fa sul Corso Vittorio vi era il doppio senso di marcia e gli autotreni e gli autobus giravano da via Bonello sotto una bifora del palazzo Arcivescovile nel piazzale antistante della cattedrale che tre anni fa, soltanto tre anni fa è stato riconosciuto patrimonio UNESCO, non merito di questa amministrazione ma lo straordinario patrimonio ce lo ritroviamo nei secoli di storia, però è merito di questa amministrazione e comunque di tutti i cittadini, di tutte le realtà che hanno creduto in questa scommessa avere contribuito a far riconoscere quello che la città è. Io credo che siamo nella strada giusta, forse abbiamo fatto solo un passo e ne potevamo fare tre, siamo in cammino, è un problema. Allora vediamo cosa pensa lui del fatto che secondo noi i palazzi dovrebbero essere sempre aperti, però indubbiamente per voi ci sono dei problemi di gestione. Credo che Andrea possa rappresentare la riqualificazione di quella zona da privato. Io comprendo che però hanno problemi di gestione, indubbiamente, non è semplice, occorrerebbe l'aiuto appunto della regione, del comune, dello Stato proprio per far sì che questi, e ce ne sono tanti altri che sono sempre chiusi. Anche perché aprire casa propria per tutti immagino rappresenta sempre uno sforzo, è una cosa sicuramente appassionante, dà un entusiasmo che contamina chi apre e chi viene a visitare. Però ricordiamo sempre che le giornate delle vie tesori, ai ricordi miei e soprattutto di mio fratello che lì appunto anche ha un'attività lavorativa, sono sempre, le ricordiamo le giornate più stancanti dell'anno. Quindi ecco, estendere queste giornate di apertura tutto l'anno è direi impossibile con le proprie forze. Quindi sicuramente è un momento bello anche perché si è attornati dagli amici che ti danno una mano. Anche perché avete la possibilità di sentire cosa dicono le persone rispetto a questi beni che noi non possiamo offrire quotidianamente. Ogni volta, cosa vi sentite dire? Dico, è un peccato che non sono aperti. È una tiratera continua. Ecco, questo dovrebbe essere secondo me il cambio di passo, ma non solo dell'amministrazione, in questo caso ha ragione Francesco. Cioè dovrebbe essere tutta la città a comprendere che è tutto un bene comune che va valorizzato tutt'assieme. Se invece poi io davanti a Palazzo Campofranco come davanti a un altro passo, io vado a scaricare di tutto, è chiaro che non ho capito nulla della potenzialità, è chiaro dal punto di vista artistico, monumentale, culturale e sociale, è la città di Palermo. In sostanza, facevamo l'altro giorno il ragionamento della cuciria. Ma riaprire i negozi della cuciria è fondamentale perché tutti vengono, io quanti turisti ho incontrato che cercano la cuciria? Quando arrivano là, dicono ma il mercato dov'è? Ed è un colpo al cuore. Ecco allora bisognerebbe far sì che si riattivassero con incentivi di tutti i tipi i negozi, soprattutto i negozi storici della cuciria. E' come essi riaprissero tanti palazzi che erano i palazzi della nobiltà palermitana e che ora possono essere veramente un luogo di incontro e di crescita culturale, che è quello che auspichiamo soprattutto per i giovani. Noi siamo fortemente convinti al di là del valore e dell'importanza che debba avere. Cioè sembra una chiacchiera, ma parliamo di cose reali. No, sono una chiacchiera, assolutamente. Non è che parliamo di una cosa che non si può fare, perché la chiacchiera è quando io parlo di una cosa che non si può realizzare. Qua li abbiamo, cioè dobbiamo aprirli e metterli in condizione di stare aperti. Fortemente convinti di come la cultura che abbia un valore fondamentale, importante per ciascuno di noi, può essere anche uno strumento e un volano per l'economia. Vorremmo dimostrare, approfittando di quest'anno così ricco di iniziative culturali, di manifesta, come l'incremento del turismo possa creare davvero concretamente economia e rilancio. L'obiettivo dell'amministrazione, ma penso di tutti, deve essere quello di non immaginare capitale della cultura che si conclude il 31 dicembre o manifesta semplicemente un calendario di iniziativa. La cosa fondamentale che noi dobbiamo immaginare è che questo sia l'inizio di un percorso e che, avendoci aperto ancora di più gli occhi su come questo possa essere importante, investire su questo. Una volta che è stata individuata come capitale della cultura, già è stata individuata, cioè non è che cambia, finisce l'anno, io sono capitale della cultura per un anno e poi non lo sono più. Esattamente, questo è l'obiettivo. No, è un messaggio, è questo il messaggio. Altra cosa da smontare è che non è la vittoria di questo, di quel sindaco, è la vittoria della nostra città. E quindi tutti dobbiamo essere orgogliosi che quest'anno c'è la cattedrale di Palermo, c'era prima di me, di te, e rimarrà. Rispetto a delle azioni che siamo impegnati tutti quanti a portare avanti a livello istituzionale, che possa contribuire anche a migliorare la fruizione del nostro patrimonio, rispetto a quello che dicevi prima, è il biglietto unico. C'è inaccettabile che una chiesa è gestita da una curia, da un'associazione, poi noi abbiamo le parchiglie di Piana degli Albanesi, la curia di Palermo, le IPAB, abbiamo il comune di Palermo, la regione Sicilia, abbiamo le concessioni date a fondazioni private. Allora stiamo provando a mettere tutti attorno a un tavolo, tutti insieme questi attori, per provare a immaginare anche un portale, una rete, e soprattutto la possibilità di avere delle informazioni su prezzi, orari, unici. Non è accettabile che uno va alla Cappella Palatina senza sapere prima a che ora apre, a che ora chiude, da chi è gestita. Non è pensabile che si vada alla gamma alla Galleria d'Arte Moderna senza sapere quali sono i giorni di chiusura, piuttosto che lo straordinario museo di Palazzo Abatellis o il Salinas. Al turista, al cittadino, poco interessa chi è l'ente proprietario, vuole fruire di queste meraviglie. Allora l'obiettivo che ci siamo posti approfittando di quest'anno, devo dire una nota positiva, sai Filippo, una nota positiva c'è che sul tema di Palermo, capitale della cultura, tanti ostacoli, tante porte chiuse, tanti diverbi tra le istituzioni, si sono seduti, ci stiamo sedendo, mi prendo la mia responsabilità, attorno a un tavolo. Devo dire che la Regione sta facendo la sua parte. La cultura di Palermo perché è chiaro che dovrebbe essere la guida o perlomeno il coordinamento di tutta questa attività. Gli attori principali, Padre Bucaro per la diocesi, il nuovo assessore Tusa, ma tante strutture, la fondazione del Banco di Sicilia, la fondazione Sicilia, insomma tutti questi attori davvero nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, stanno avendo un obiettivo comune, che è quello di investire sulla cultura e mettersi attorno a un tavolo per fare in modo che questo patrimonio sia il più integrato possibile, questo manca a Palermo. C'è praticamente il complesso monumentale di San Domenico, gestito dai padri domenicani, dalla storia patria e dalla padre Bucaro, perché c'è l'oratorio. È una cosa assurda, non mi voglio mettere contro nessuno dei tre, perché conosco tutti i tre. Però quello che si può fare è farli dialogare. Ad esempio, perché alcune volte la storia patria è accessibile e non è accessibile il chiostro, perché il chiostro è diviso in due, non è accessibile la parte che è gestita dai domenicani. L'oratorio invece di San Domenico viene gestita a parte dalla diocese, è un'assurdità. Poi la sala del calendario viene gestita da un'associazione. Esattamente. Era lo spaccato che ti dicevo. È quello che si verifica, io ho portato questo esempio. Ora, in considerazione che questo è dovuto alla storia della nostra città, della nostra nazione, non lo puoi smontare. Quello che si può fare è impegnarsi affinché all'esterno questo non appaia. Cioè, la fruizione del bene non può dipendere da chi lo gestisce. Deve esserci una visione unica, una politica integrata da queste istituzioni e deve essere più accessibile. Questo potrebbe essere e deve essere uno degli obiettivi che attraverso quest'anno rimarrà nel tempo e su questo siamo particolarmente impegnati. E allora, ritorniamo al medico, chiaramente appassionato d'arte. Sono tante le domande che vorrei fare perché dico, quella fondamentale, ma un privato arrivato a un certo punto dice ma a me chi me lo fa fare? Cioè, è perché lui appunto è spinto da questa passione per l'arte, perché se non fosse così, poi i problemi, il problema anche per esempio, ne porto uno per tutti, problemi di sicurezza. Dice, ma a me chi me lo fa fare? Rischiare in prima persona per attivare un'iniziativa che poi ne possono usufruire tanti altri e che forse posso ricevere anche delle critiche. Certo, delle critiche o anche dei problemi. Cioè, qual è l'accusa che possiamo, un'accusa o perlomeno un appunto che possiamo fare alle istituzioni? Certamente quando ci si prepara a questi eventi e si affronta anche la giornata di apertura e poi si vede anche un po' il trend, si pensa anche appunto chi me l'ha fatto fare. Allora bisogna trovare sempre l'entusiasmo e la passione dentro di sé che ti ha portato a fare quello che hai fatto e a guardare avanti e cercare sempre di migliorare e rafforzare nei tuoi sogni, nei tuoi obiettivi, nei tuoi propositi. Certamente ecco, mi piace usare alcune espressioni con gli amici quando ne discuto. Ecco, Palermo non è Milano e appunto l'arte contemporanea non è il calcio, quindi chiaramente quello che tu fai non ha la stessa popolarità che ha altre questioni. Però i risultati della verità e i tesori dimostrano insomma che c'è la possibilità. Sì, sono sicuramente incoraggianti. Che c'è la possibilità appunto di... Danno, ecco, contaminano il tuo pensiero, il tuo pensiero e il tuo progetto ecco, contamina anche la mente degli amici, dei cittadini che vengono a trovarci. Certamente il processo è molto lungo finché quello che tu fai venga riconosciuto e venga dato anche un valore a quello che fai. Certamente ecco, ho usato questa espressione prima perché normalmente in città come Milano o come altre, normalmente la cultura riceve degli sponsor forti, fondazioni bancarie, fondazioni private, il comune, eccetera. Quindi chiaramente quello che tu fai ha un supporto gigantesco e soprattutto in prospettiva. Qui a Palermo ecco, non voglio illudermi su questo. Ecco, non so che molto, molto difficilmente troverò mai dei sponsor per le mie iniziative. Però ecco il progetto di Palazzo Butera è incoraggianti. Non so perché per esempio Fondazione per il Sud ha finanziato delle iniziative nel centro storico perciò probabilmente terrà in considerazione questa nuova fase che si sta sviluppando a Palermo che potrebbe intervenire. Direi Palazzo Butera. Allora, ecco, dobbiamo parlare di Palazzo Butera. Velocemente, a che punto è Palazzo Butera? Perché abbiamo proprio 30 secondi. Palazzo Butera è il secondo esempio che volevo riportare prima di come l'investimento su Manifesta ha delle ricadute indirette che poi sono assolutamente dirette sulla città. Perché Palazzo Butera è il collezionista, il professor Massimo Valsecchi, vende la sua dimora londinese e acquista interamente Palazzo Butera, ristrutturandolo interamente e al di là degli spazi che sono la sua residenza privata, perché ormai è un palermitano a tutti gli effetti, sta creando una struttura museale, privata, aperta alla città. Smontando quello che lui definisce un'altezzosa struttura nobiliare che ha separato la possibilità di vedere la città e il mare, provando ad aprire una porta immaginaria tra la città e il mare attraverso l'arte. Questa è un'operazione straordinaria. I lavori sono stati completati? I lavori, allora, ancora sono in corso rispetto al secondo piano, ma tutta la parte del piano nobile e alcune zone espositive già sono state aperte proprio questo fine settimana e sono fruibili attraverso il circuito Manifesta. Siccome abbiamo 30 secondi, l'invito che faccio a tutti quanti utilizzando questo canale di cui ti ringrazio di questa mattinata e di questa possibilità nel poter dare queste informazioni, invito tutti i palermitani a recarsi al Teatro Garibaldi a Piazza Calza, a prendere informazioni sul calendario, a potersi fare questo piccolo abbonamento, verrà data una cartina dove sostanzialmente invece di entrare in un museo si entra in una città dove vengono individuati monumenti che ospitano le manifestazioni, le installazioni, le mostre ed è un modo per conoscere l'arte contemporanea e Palermo. Dovevamo parlare di come Manifesta si inserisce in Palermo Capitale della Cultura e come può influire il Festino di Palermo in tutte queste due altre manifestazioni, iniziative. Festino mi autoinvito prima del 14 luglio, se vuoi, perché lunedì dovrebbe finalmente arrivare il verdetto della ditta giudicatrice, quindi finora non parlo per correttezza, è un bellissimo il tema di quest'anno, è Rosalia Bambina, quindi dedicata ai bambini e all'infanzia. Noi parleremo allora dell'impegno che tu ritornerai per parlare di questa iniziativa. Io intanto vi ringrazio, ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti.